Centinaia di rappresentanti da 45 paesi del mondo riuniti a Torino per la prima volta in Italia per discutere di imprese che hanno come obiettivo fondamentale l'impatto sociale positivo. Stiamo parlando del Global Social Business Summit del premio Nobel per la pace Yunus. Il servizio è di Fabio De Ponte. Il Global Social Business Summit è la riunione della comunità del social business. Siamo imprenditori sociali che risolvono problemi con un modello di business. E per problemi si intende soprattutto una cosa, la povertà. Giunto alla dodicesima edizione il Summit è sbarcato per la prima volta in Italia. Protagonista della Due Giorni il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, l'economista che ha inventato la formula del microcredito e la diffusa nel mondo. Con la sua Grameen Bank dagli anni 70 ad oggi ha aiutato più di 10 milioni di persone ad uscire dalla povertà. Ma soprattutto ha impostato un modello, quello di aiutare le persone ad aiutarsi da sole, che vale nei paesi poveri come in quelli ricchi. In Italia Grameen ha aiutato circa 5 mila persone ad accedere ad un piccolo credito per avviare un'attività e ad uscire dall'indigenza. Può essere un'alternativa interessante al reddito di cittadinanza, perché qui non diamo un sussidio fino a se stessi. Li aiutiamo a sviluppare un progetto che viene finanziato con il microcredito o con l'aiuto di imprese che hanno una vocazione sociale. E proprio a Torino è in corso un esperimento. Stiamo lavorando sulla creazione di una borsa sociale e stiamo studiando se è possibile creare un mercato di capitali che non siano solo interessati al profitto, ma anche alle ricadute sociali. Già otto imprese stanno preparando il dossier. Il sogno è quello di dare vita ad un segmento specifico all'interno della borsa di Milano. Ed il forum è un'occasione per Torino per creare nuove possibilità. Stiamo creando un sacco di programmi con la città. Il nostro obiettivo non è arrivare e semplicemente fare un summit e poi partire, ma è sedimentare.